E allora signori, buonasera! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa puntata speciale del canale di Ale, quale il show, Summer Edition. Questo qui è uno degli ultimi video che registrerò qui, come potete vedere, dalle bellissime dolomiti di Andalo 2020. Uscirà poi a breve i video sul nostro vlog, della nostra vacanza. Ma concentriamoci sulla puntata di oggi. Oggi è un giorno speciale perché per me che, insomma, il mio canale si chiama Ale, quale il show, quindi è intuibile che è il mio programma preferito come chi ci segue ormai da febbraio. Ben sa, è uscito oggi ragazzi il cast ufficiale della decima edizione di Tale, quale il show che arriverà sui schermi italiani il 18 settembre su Rai 1, con la decima edizione per bene, credo, nove puntate, con dieci nuovi concorrenti. Ma se ti è curioso di andare a vederli insieme, andiamo a vederli insieme, dai ragazzi, eccoli qua! Ho visto insieme, ragazzi, il cast maschile della decima edizione tale, quale il show è veramente prestigioso. Ritroviamo Luca Ward, uno dei più grandi doppiatori italiani di sempre, con una voce unica, pazzesca, che credo sarà il favorito di questa decima edizione. Poi troviamo anche Sergio Muniz, che ha recitato sia con Luca Ward nel musico di Mamma Mia. Poi troviamo il cantante Pago, che anche lui ha partecipato a, mi sembra, il grande fratello Vip, anche lui una bella voce. Un cantante che mi sembra che ha vinto, o credo che sia arrivato in finale, di Amici 2011, di Virginio. Poi dovrebbe esserci, vediamo un po' se me li ricordo, Virgilio, Luca Ward, Sergio Muniz, e poi, e poi, e poi, chi c'è, chi c'è, chi c'è? E poi ecco l'attore bravissimo, comico, Francesco Paolo Antoni. Questi sono i primi cinque uomini della decima edizione di tale, quale show. Ma adesso siete curiosi di sapere il cast F1000, cast F1000 anche lì ragazzi, tanta roba. Eccolo qui. Il cast F1000, quindi come abbiamo visto, ha tantissimi nomi molto forti. Iniziamo da Carmen Russo, una, non inutile spiegarla, insomma, Carmen Russo vedremo un po' che come si comporterà. Poi c'è la bravissima vincitrice, ragazzi, di Francesca Manzini, che ha conosciuto la notizia, che ha partecipato dai Vincis Celebrities, anche quella lì una papabile vincitrice. Poi abbiamo una cantante che non conosco, di verità, Giulia Sol, che vedremo un po', insomma, cosa combinerà. Poi c'è Carolina Ray, una buonissima conduttrice, sempre direi uno. E poi, poi, poi ha Barbara Cola, che ha partecipato alla seconda edizione di Orome più con Amadeus l'anno scorso. E poi soprattutto al musico di Oromeo Giulietta, sempre facendo la parte della mamma Montecchi, mi sembra. Ragazzi, la decima edizione di Tale e Quale Show ci aspetterà per tutti noi appassionati il 18 settembre su Rayuno, per un'edizione che si sfrutterà memorabile. Vi invito, ragazzi, a iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdervi tutte le novità del nostro canale. Arriveranno appunto in odo dopo i miei vlog, sulla, insomma, mia vacanza di Andalo, eh. Poi noi puntate sempre di Signore in Demanda e anche di Pettersport24. E, insomma, ragazzi, a prestissimo con un caloroso saluto da Ale, da Andalo 2020. Insomma, e buona estate. A presto. E allora, signori, buonasera! E allora, signori, buonasera! Per fare il primo o quello...